Una notte all'insegna dei brividi e dell'emozione. Anche quest'anno Villa Reale di Marlia ospita il 31 ottobre l'Halloween Celebration Carnival, che celebra la sua trentesima edizione. Il programma dell'evento, che inizierà nel pomeriggio alle 16 per proseguire fino a notte, è stato presentato presso la storica dimora capannorese. Cortei, spettacoli itineranti, street food, live music, all'interno di sei location coperte per una festa a prova di pioggia, con il gran finale del solenne rito della danza macabre. Siamo veramente soddisfatti di questo trentennale di Halloween Celebration. Quest'anno al Carnival in Villa Reale avremo più di 400 artisti presenti che si snoderanno dalle 16 del pomeriggio fino alle 2 della notte. Grandi eventi e soprattutto 4 tendoni da circo dove poter vedere spettacoli fino alla notte. Una grande murgolfiera che si alzerà sul cielo di Capannoli e il grande spettacolo pirotecnico che illuminerà a giorno il cielo della Piana di Lucca. È doveroso ringraziare tutti quanti hanno collaborato e hanno patrociniato Halloween Celebration trentennale, 13 comuni della Piana di Lucca, la provincia di Lucca, la regione toscana e anche la partnership importante di Lucca Crea e Lucca Comics & Games.